Io sono favorevole all'obbligo, favorevole all'estensione del Green Pass perché poi queste forze di destra, la cosa che fa un po' ridere è che dopo aver detto no al Green Pass, no alla mascherina, no all'obbligo vaccinale sono quelle che dicono sì riapriamo tutto, sì dobbiamo andare da tutte le parti allora delle due l'una, perché non si tengono insieme queste cose non è che tu puoi riaprire tutto se prima non hai una protezione che ti consente di non avere migliaia di morti Noi siamo una società che ha una grandissima difficoltà a far conto con la parola dovere e obbligo mentre con facilità richiama la parola diritto non abbiamo consapevolezza che diritti e doveri stanno sempre insieme in una società se no c'è l'anarchia e tuttavia io vedo un problema ancora più significativo che non sono questi quattro matti ma sono la platea di persone che anche legittimamente può avere delle angosce qual è il problema? Che queste angosce sono moltiplicate da interventi continui, anche televisivi in cui si raccontano, vengono intervistate persone che non capiscono niente di vaccini non capiscono niente di sanità che dicono cose in modo del tutto irresponsabile provocando ansie, preoccupazioni insomma è continuo questo allora qui bisogna chiarire una cosa certo che le opinioni anche diverse devono avere tutta la come posso dire la possibilità di essere manifestate ma devono essere opinioni e si deve richiedere che siano opinioni argomentate non possono essere leggende metropolitane propinate a milioni di spettatori alcuni dei quali, molti dei quali sono spaventati perché questo vaccino ha preoccupato tutti perché è un vaccino fatto in tempi rapidi con tutti i processi e i protocolli però fatto in tempi rapidi e la gente si spaventa è normale ma se questo spavento viene coltivato da per esempio ce ne sono molti editorialisti o giornalisti che vogliono coltivarsi la loro fetta di marketing per cui vogliono diventare quelli che sono il punto di riferimento dei Novax questo è irresponsabile, pericoloso e non bisogna dargli sponda in nessun modo